Stai tranquilla, tuo marito è con me, faremo tardi. Si sarebbe rivolto così Giovanni Riggio di 29 anni alla moglie di Giuseppe Mattina, poco dopo averlo ucciso, all'interno dell'officina incontrada a San Benedetto, alla periferia di Agrigento. Riggio si sarebbe consegnato qualche ora dopo al commissariato di Brancaccio nel Palermitano, confessando agli agenti quanto accaduto. I due uomini erano stati visti insieme nel primo pomeriggio di venerdì all'interno di un bar, pare avessero questioni economiche. Poi il 29enne in serata avrebbe raggiunto Mattina in officina con la scusa di parlare per poi ucciderlo con decine di coltellate e legarlo con del nastro adesivo tra due auto. Sarebbe stato in quel momento che la moglie della vittima avrebbe cercato il marito al telefono e vedendo che questi non rispondeva avrebbe chiamato il suo socio in affari che l'avrebbe tranquillizzata. Lui ha il telefono scarico e non può chiamare, le avrebbe detto al telefono, ma tu non ti preoccupare. Dopo averlo ucciso, Riggio si sarebbe messo in macchina per recarsi a Palermo a trovare alcuni familiari. Solo intorno alle 4 del mattino avrebbe denunciato agli agenti l'omicidio compiuto qualche ora prima.